E ciao ragazzi, io sono Firebrandt e benvenuto in questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati su Brawl Stars perché, come potete vedere, in basso a sinistra, abbiamo da sbloccare il nuovo brawler, Willow. Ho sblocato già un po' di punti da solo, giusto per... però ora lo vorrei sbloccare insieme a voi. Quindi, infatti, si è già da qui. Prendiamo 25, ok? Quindi, devo assaggiare il precedente. 95. Già sblocato praticamente. 45 e 95. Olè, Willow! Ok. E vorrei anche maxarla. Però prima volevo provarla a livello 1, come sempre. Ah, la skin. Ma forse poi la scioppo, sai? Io proverei il footbrawl. Andiamo. Questa è la prima partita con Willow. Allora, io so che è molto forte. Perché in footbrawl tu puoi prendere vita di un nemico e fargli autogoll praticamente. Mi avvicino, primo gol. Ma hanno potenziato i bot? Oh, io ho preso l'anima. No, è morto. Beh, andiamola a maxarla. Come sempre, andiamo su Brawler. Andiamo qui. Velo 2, velo 3, velo 4, velo 5, velo 6, velo 7, velo 8, velo 9, velo 10, velo 11. In questo giro avevo calcolato tutto. Quindi prenderei anche la star power. Ok, tante monete. Perché vorrei maxarla completamente. Così, un accettino. Dovrei farcela perché no, questo no. Io prendo sempre danni a scuola. Sono i migliori secondo me. Vorrei fare anche la missione se ce la faccio. La differenza si nota, eh. Cioè, se ho passato da tipo 100 di danno a quasi. Cioè, se lo prendi interamente col colpo, 2100, ad esempio, io ho fatto. Guarda lì. Eh, si vede la differenza. Primo gol. No, non ho più col. Secondo gol ha dato. Oh, questo è gattivissimo. Comunque è molto skillato, eh. Cioè, se uno ha la mira di un grigetto non... E poi non sono i grigetti che mira hanno, eh. Primo gol. Comunque ho notato anche che con RT, le maestrie, cioè, è meglio essere a Coppa Bassa che a Coppa Alta. Perché si vince di più. Perché si vince di più. Eh, però... Se ne prendono di meno. Però ci sono più vincita. Quindi conviene stare a Coppa Bassa e a Coppa Alta. Comunque sto giocando solo in F2BRAWL. Non perché le altre modalità non mi piacciono. Però è più veloce la modalità. Cioè, a Coppa Bassa è molto veloce. Quindi, 10 secondi e già... GUSBOD. Ha segnato. Siamo contro Super Louise. Comunque è a livello 1. No, è tutta un'altra cosa. Cioè, fa schifo da livello 1. Però, prima a livello 1 proprio. Questi ci stanno aprendo il cosiddetto... Oh... E Super Louise ci ha segnato. È meglio che ho messo zitto, eh. E RT ci ha fatto fuori da tutte e due. Oh, tira con la ultima. Però ha fatto colpa. Bravo. Ah, ma è davvero combattuta sta partita. Comunque andare a supplementare a 40 coppia è proprio... A vero... E Tiro ha il gol. Bello. La partita, comunque. Ma se c'è un problema non mi trova la partita. Eh, ragazzi. Foto anche a riavviare il tablet, ma non ce l'ho fatta. Cioè, non mi trova la partita. Vabbè, peccato. Volevo arrivare a... Quindi lo farò off camera. Comunque ho fatto soltanto due coppia, eh. Io direi di prendermi la skin. Eccola qui. E niente. Io direi di salutarci. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ah, io direi di sensore la skin.